Musica E' una festa che fa promozione del territorio, facciamo piatti tipici aretini con le ricette rigorosamente come le facevano le nostre nonne con piatti cucinati nel tegame, con piatti antichi, niente, è festa La pietanza che è andata per la maggiore è le tagliatelle col sugo di nana Io sono lì a saltarle, mamma mia, ne va via a centinaia per sera Ultimo fine settimana per l'antica festa del tegame di Monte Soprarondine Frazione alle porte di Arezzo La cucina rispetta le più antiche tradizioni rigorosamente aretine I piatti tipici aretini che vanno per la maggiore a questa festa sono La nana in porchetta, poi in più c'è trippa, grifi, fegatelli, aristala antica, ribollita, zuppa di funghi Tutti questi piatti li trovate alla nostra festa In più ci sono dei sommelier che vi consigliano un vino aretino abbinato al vostro piatto che scegliete per la cena Non manca però un tocco di modernità con gli aperitivi Ad esempio lo spritz di Monte, ricetta segreta Non solo tavola ma anche divertimento sempre nel rispetto della tradizione Come il gioco dei tappi dove si sa vincono sempre tutti Si dice sempre, l'unico che perde sono io Nella seconda sera che dopo la cucina me l'ho messo qui Grazie a tutti